In un mondo dove ogni gesto, ogni immagine condivisa può diventare un messaggio cifrato, la storia dei Ferragnezz assume toni quasi shakesperiani. È come se, dietro ogni post, ogni storia Instagram, si celasse un codice segreto, in attesa di essere decifrato. Oggi cerchiamo di andare oltre la superficie, scavando nel profondo di questa vicenda che tiene con il fiato sospeso milioni di fan. Nell'epoca d'oro dei Ferragnezz, ogni momento era condiviso, celebrato, amato dal pubblico. La nascita dei loro figli, Leone e Vittoria, aveva aggiunto al loro racconto familiare sfumature di dolcezza e autenticità. Ma come in ogni storia, anche in quella dei Ferragnezz arriva il momento del cambiamento. La mancanza delle immagini dei bambini non è solo una scelta, ma un grido silenzioso che parla di un cambiamento profondo. Cosa sta realmente accadendo dietro quelle porte chiuse, dietro quegli schermi spenti? Secondo l'esperto legale Antonio Scarnera, il cuore di questo cambiamento risiede in una possibile battaglia legale che impone regole stringenti sulla privacy dei minori. In Italia, la legge è molto chiara in merito. La condivisione di immagini che ritraggono minori richiede il consenso di entrambi i genitori, a prescindere dal loro stato relazionale. Potrebbe essere questo il motivo dietro la scelta dei Ferragnezz di non mostrare più i volti dei loro figli? Un tentativo di navigare le acque tumultuose della separazione, proteggendo al contempo i loro piccoli? I social, una volta palcoscenici di felicità e condivisione, ora sembrano riflettere un'atmosfera di cautela, quasi di tensione. Gli stessi fan, che hanno seguito amorevolmente ogni passo dei loro idoli, ora si ritrovano a fare i conti con questa nuova, inquietante realtà. L'assenza diventa presenza, il silenzio grida, e ogni non detto si carica di significati nascosti. Nonostante le ombre, nonostante i dubbi, al cuore di questa vicenda rimane l'amore incondizionato per Leone e Vittoria. Chiara e Fedez, pur nel vortice di speculazioni e ipotesi, cercano di proteggere i loro figli, di offrire loro un'isola di serenità in un mare agitato. La speranza è che, nonostante le difficoltà, possano trovare una via per navigare insieme, per il bene supremo dei loro bambini. In questa storia moderna, dove la vita si intreccia con i social, la vicenda dei Ferragnez ci ricorda quanto sia fragile e prezioso il tessuto delle relazioni umane. Ogni scelta diventa una dichiarazione, ogni silenzio una confessione. Ma al di là di tutto, resta l'amore per quei piccoli cuori che battono forte, indifferenti alle tempeste adulte. Per loro, speriamo, brilli sempre il sole, dopo la pioggia.